Aveva bisogno di una squadra europea e lo siamo stati, sotto tutti i punti di vista. È una cosa che predico da quando sono arrivato qui a Roma. Fortunatamente riesco a trasmettere una certa mentalità. Sono felicissimo, veramente, al di là proprio di tutte le situazioni di difficoltà che ci sono state, sia personali ma anche di squadra. Oggi è un grande momento, però non basta. E noi ci dobbiamo accontentare perché quest'ambiente si è sempre accontentato. Noi abbiamo un obiettivo in questo momento, visto che siamo arrivati in sede finale. Perché dire come, invece di dire come va, va. Questa squadra deve puntare ad arrivare a Kiev. Punto. Perché è giusto che lo faccia. In questo momento, dopo aver fatto questa cosa straordinaria in casa, perché non deve ambire a qualcosa di più, ancora più grande? E noi lo dobbiamo fare. Ombre, sono una derrotata dolorosa. Non tengo ninguna duda. E, bueno, todos tenemos ilusión. Quando inizia una competizione in poterlala, al final solo gana uno e il resto se queda nel camino. A noi ci ha tocado quedarnos nel camino hoi, di una maniera inesperata per tutti noi. E abbiamo che seguirei avanti. De la misma maniera che, altre volte, quando abbiamo perdito durante l'anno, abbiamo che seguirei avanti, perché sì, perché non c'è altro remedio. Ora nos pasará igual, abbiamo che aguantare il tirone. Ora saranno unos giorni duri, non c'è nessuna duda. E noi abbiamo che centrare nelle due competizioni che ci restano. Intentare guanarli perché non abbiamo guanato nulla. Nenuna delle due. E, evidentemente, una derrota così, duele. Duele molto, nos duele a noi, duele a nostra gente. E ora hai che mirare...